La tecnologia arriva in aiuto degli studenti. All'Università Roma 3, a partire dal prossimo anno accademico, a disposizione degli universitari ci saranno materiali e programmi di ultima generazione per aiutarli a migliorare i sistemi di studio. Ma scopriamo di che si tratta nel servizio di Nazario Basili. Roma 3 diventa high-tech. Grazie ad un finanziamento di 2,35 milioni di euro messo a disposizione dalla Fondazione Roma, è stato completato il progetto di Attica Aperta, che entrerà al regime il prossimo anno accademico. Il contributo dell'ente Capitolino ha coperto il 95% del costo totale. 200 le aule dell'Ateneo all'Ostiense, dove è stato completato l'aggiornamento tecnologico con sistemi di videoproiezione, diffusione audio e protezione anti-vandalismo. In 40 di queste è stato installato un sistema tecnologicamente avanzato per la gestione multicanale audio-video, l'interazione multimediale e le produzioni live. 600 le postazioni informatiche allestite nei laboratori per la produzione e la post-produzione di materiali didattici. Potenziata la connessione alla banda larga, che garantisce 10 giga al secondo. Migliorato anche il sistema informativo interno, con pannelli e monitor di ultima generazione. Tutti i nostri apparati sono proiettati per un potenziamento dell'attività didattica, soprattutto per evitare le fughe degli studenti, quindi coloro che escono poi dall'università e quelli che seguono invece i corsi, di rimanere nella linea diretta del corso e quindi non perdere anni. E proiettare Roma 3 verso un scenario, un panorama internazionale più denso, più aperto. Infatti proprio in questi giorni stiamo montando una cattedra telematica di italiano a Cuba. Le nuove dotazioni hanno anche potenziato la possibilità di formazione a casa attraverso la modalità e-learning.